Ho lasciato mio marito dopo 22 anni, ma la sua famiglia e lui pensano che io abbia un altro uomo ed è per questo che mi hanno messo un investigatore privato, controllo sulla macchina e telecamere in casa. Io non ce la faccio più. Cosa devo fare? Benvenuti nella mia nuova rubrica, un consiglio da Rossella. Accominciamo. Tuo marito ha ragione, è anche la famiglia di tuo marito. Scusa se mi permetto, ma io questa cosa la devo dire. Cioè tu ti permetti di lasciare tuo marito dopo 22 anni solamente perché il vizio del gioco è perché non ti dà una settimana in casa, perché i soldi glieli devi chiedere tu per tutto quello che ti serve e perché ti devi conservare gli scontrini delle cose che compri perché altrimenti lui non ti crede. Dai, ma dopo 22 anni, dico io, ma come hai fatto a resistere 22 anni? Cioè questo non è un buon motivo sentirsi, ma che sei una dipendente, ma che sei la figlia che lui ti deve controllare, ma che stiamo scherzando? Tu sei la moglie e questo per 22 anni si gioca i soldi per fatti suoi, giustamente, perché lui c'è il vizio del gioco, eh, giustamente. E tu qualsiasi cosa compri gli devi portare lo scontinuo perché non ti credi. Ma il matrimonio su che cosa è fondato? Fammi capire. No, perché manco sulla fiducia. Dice che l'amore non ci sta, perché l'amore non ne ha, perché quando tu ami una persona con la persona la vuoi rendere felice e lui felice non ti ha reso mai perché è una persona che tu rendi, come dire, che fai sentire il peso del fatto che tu la mantieni. Che schifezza, mamma mia. Una cosa proprio che io non sopporto proprio. E oltretutto non la tiene manca fiducia. Ma il matrimonio vostro, 22 anni, su che cosa è stata poggiata? Su nulla. Tu hai fatto un uomo bene. Benissimo che l'hai lasciata. Hai capito? E dopo tutto questo tu c'è un altro uomo. Ma tu veramente, guarda, se non ce l'hai te lo devi trovare. Allora, mo scherzi a parte. Quello che ti voglio dire. Tu sai che lui ti sta controllando. Tu sai che lui ti ha messo anche il localizzatore sulla macchina. Tu sai che lui ti ha messo una cosa per sentire le voci in casa. Tu sai che lui ti ha messo un investigatore privato, no? Tu sai e non stai facendo niente. Chiama la polizia. Chiama qualsiasi persona e sporgi una denuncia che ci sono persone che ti hanno. Perché questo è reato. Lo sai che queste cose non si possono fare. Punto primo. Punto secondo. Viste che tu sai che lui ti registra. Io andrei proprio vicino alla telecamera e direi. È inutile che mi registri. Il cane non trovo nessun uomo. Il motivo per cui mi hai lasciato è se è solo tu. E ora vatti a giocare questi spicci. Ma così ti devi dire. Trovate un lavoro. Tu dici alla mia età, non lo so quanti anni hai. Perché non me l'hai detto. È difficile trovare lavoro. Qualsiasi lavoro. Uè. Pur andare a pulire le scale. Che è un lavoro dignitoso. Qualsiasi lavoro ti porta soldi in tasca. È un grandissimo lavoro. Ma soprattutto qualsiasi lavoro ti rende indipendente da quell'uomo. Guarda. È una vittoria. Tu addirittura fai un brutto pensiero. Non ce la fai più. Ti puoi togliere. Ma io non mi offrirò pensare. Nonostante quello che ti ha fatto 22 anni. Tu ancora continui a regalare gli attimi della tua vita. Tu hai trovato il coraggio di lasciare. Ora fai un altro passo. Alza l'asticella. Cerca di essere felice. Cerca di essere indipendente. Perché guarda. Non esiste cosa più bella. Che poter avere la possibilità di comprarsi un rossetto. Pure di un euro. Con le proprie forze. E non è perché ce l'ho con le persone. Con le donne. Che hanno scelto di non lavorare. Perché ognuno sceglie come meglio crede. E fa quello che più gli sta bene. Ma nel tuo caso. Dove tu c'è un marito. Un marito. Che addirittura ti ha fatto pesare. E ti controllava quello che tu compravi con gli scontri. Ma di che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? In una famiglia dove si deve condividere. Ma tu che sei la sua dipendente. Non ho capito. Azz, tu lavo, stile, cucina, bada la casa, cresci i figli. E poi devi portare lo scontri. Niente le cose che compri. Niente meno la famiglia su si permette pure di parlare. Non ti devi sentire meno di niente e di nessuno. Non permetterà a questa gente di farti del male. Basta. Liberatene. Non devi fare questo pensiero. Hai capito sì o no? Qua è tutta la situazione. Chi ha sbagliato? Non sei tu. Non sei tu. Mettitelo bene in testa. Perché fai così? Perché ti devi sentire meno? Ma chi è chissà? Lo è asciuto. Chi se ne è mai stato un marito? Ne è mai stato buono? Hai capito sì o no? Allora la felicità può essere sempre rincorsa. E te lo dico io che la felicità ho incominciato a riviverla a 45 anni. Magari domani sono tristinata a volte. Però sai che ti dico? Ho vissuto attimi di felicità. E come so bello. Perché la vita è che è felicità, tristezza. Ma è un percorso verso se stessi. Per migliorarsi. Tu sei riuscita a lasciarlo. Non è stato facile. Già per questo io ti ammiro tanto. Perché dopo 22 anni, senza avere una motivazione così plateale, ma una motivazione così forte che è stata dentro di te. E vedi per quanti anni hai subito, no? Ti fa un'ora. Vuol dire che hai avuto le cosiddette balls di farlo. E mo fai un passo in più. Mo li vedo tutta sta gente che non serve a niente. Ma a te che tu non porti sta gente. Cerchi di trovare tutte queste cose che c'è in casa. Chiama qualcuno. Fatti togliere tutto assolutamente. Perché tu a lui non gli devi niente. Tu le lasciate e a lui non gli devi niente. Già gli è dato troppo tempo della tua vita. Non esiste proprio. Non esiste proprio. Reagisci. Perché guarda che se tu non reagisci, nessuno lo farà al posto tuo. Smettila di farti calpestare da lui. Tu non sei nato tappito. Hai capito? Tu sei nato femmina. E sei nato in una forma non esagerata. Reagisci. Hai capito? Mi raccomando, fammi sapere. Buona vita.